15 ore di riunione per fare il punto sulle cose fatte e quelle da fare senza tralasciare criticità ed affrontare con una squadra più unita i problemi della città. Il sindaco Luigi De Magistris spiega in un incontro con i giornalisti l'esito del confronto voluto con la giunta comunale alla mostra d'oltremare, occasione per approfondire il dialogo soprattutto con gli assessori insediati da pochi mesi e definire con l'inizio di autunno l'agenda delle priorità. La squadra coesa, compatta, voglia di lavorare, sente questa missione in un momento difficile ma di grande rilancio della città. Abbiamo convenuto soprattutto di rendere visibili le azioni concrete dell'amministrazione, la ristrutturazione delle scuole, quindi le strade, l'ambiente, i parchi, i giardini, il trasporto pubblico, cioè far vedere ai napoletani che cosa è significato stare senza soldi questi due anni e che cosa significa adesso avere un minimo di liquidità e potere dare ancora più risposte rispetto al passato. Al centro i temi del lavoro, dell'ambiente, i prossimi interventi per la ristrutturazione di strade e scuole ma soprattutto l'idea di una città che punta sui giovani e vicina ai più deboli. I punti centrali sono la vicinanza ai quartieri più difficili di Napoli che sono soprattutto la zona nord, la zona orientale e alcuni quartieri della zona occidentale. Quindi vicinanza ai quartieri che maggiormente hanno sofferto in tutti gli aspetti. Poi la carta d'identità forte della nostra amministrazione vuole essere il progetto dei giovani. Questo è un punto sicuramente qualificante. Poi quello di star vicino alle persone in difficoltà. Quasi è discusso tanto quest'estate i partiti, non i partiti, cose che insomma sì sono importanti, ma quello che a me preoccupa è l'aumento delle povertà. L'amministrazione vuole stare vicino alle persone in difficoltà, a quelle che una volta è il ceto medio e sta diventando povero. Quindi aumentare le strutture di accoglienza nei confronti delle persone in difficoltà ed evitare che Napoli appaia una città in degrado, dove le persone povere si abbandonano per strada, non sanno come vivere, vanno a raccogliere i rifiuti nei cassonetti. Questo non deve accadere, bisogna far sì che Napoli rimanga e sia sempre di più una delle città più belle del mondo, una città attraente, è ritornata a essere una città piena di turisti e quindi deve essere una città in questa direzione. Fondamentale, ha sottolineato il sindaco, rafforzare i rapporti con regione e governo e ben venga il confronto con i partiti, purché sia costruttivo e si risolvano i problemi. Per me il confronto con il PD deve essere sui problemi, cosa che non c'è stata in questi due anni. Mi dispiace perché secondo me con il PD bisognerebbe avere ragioni di dialogo, io l'ho con tanti del PD, ma se la decisione del PD come partito, come singolo o di un segretario è quello di attaccare il sindaco, il sindaco non ha nessun problema, perché il sindaco si rivolge, come ha sempre fatto, in primo luogo ai cittadini e cerco di risolvere i problemi dei cittadini. Quindi sì al referendum consultivo se serve a risolvere i problemi, aiutare, ascoltare, eccetera. Se è un'operazione politica del PD perché ha deciso di fare altro, noi ci siamo.